Ben trovati, qual è l'obiettivo, il fine della politica? Risolvere i problemi dei cittadini, sì, ma anche un'altra peculiarità, ossia quella di interpretare, prevedere quelle che possono essere le esigenze, le necessità, le urgenze di un uomo e di una donna, di una ragazza o di un ragazzo, di un anziano o di un anziano, oppure andare anche a risolvere i problemi che sono legati alla strutturazione della società anche dal punto di vista economico. Ricorderete un po' di mesi fa, quando ci fu una polemica, quando qualcuno polemizzò contro la presenza e gli aiuti, li chiamavano, oppure le presenze di spot all'interno dei palinsesti delle televisioni locali o sui giornali regionali, comunali o provinciali, ossia quando le pubbliche amministrazioni, i comuni, le province e le regioni o la regione nella fattispecie del nostro territorio, usava il mezzo radio televisivo o della carta stampata per render note iniziative, al di là delle conferenze stampa in cui si illustravano i progetti e le attività della politica territoriale, quindi locale o regionale. Qualcuno all'epoca polemizzò dicendo che in questo modo gli organi di informazione rischiano di non essere liberi, di non essere autonomi, ma soggettati alla politica, al potere, al potere della coalizione che governa una regione, un comune o una provincia. Io ebbi da riflettere dicendo ma scusate di cosa stiamo parlando? Nel senso che se un comune di centro-sinistra o di centro-destra, una regione governata negli anni dal centro-destra o dal centro-sinistra, prevede di pubblicizzare attraverso un giornale, una radio o una televisione questo o quell'altro evento, vuol soltanto comunicare, fruire di un servizio, che logicamente è a pagamento, di un organo di informazione. In questo modo non assoggetta nessuno, dà soltanto la possibilità e contribuisce, considerata anche la crisi economica gravissima che ormai da qualche anno stiamo subendo e contribuisce alla vita e agli sforzi che quotidianamente gli imprenditori e gli editori e i giornalisti compiono per offrire un servizio di informazione. Mi fu obiettato no, non è così. Coloro che obiettavano con il non è così scambiavano la pubblicità come un favore, invece non è mai stato e non sarebbe mai da considerare un favore, ma il mezzo attraverso cui giungere periodicamente e costantemente nelle case dei pugliesi e dei salentini. Oggi assisto a questo dibattito che viene da Bari e quindi dal Consiglio regionale, in cui tanti rappresentanti del popolo, tanti consiglieri regionali e anche momenti di governo della Giunta Vendola comprendono lo stato di enorme crisi in cui gli organi di informazione purtroppo sono messi in questo contingente momento di drammatica crisi economica. Allora, io mi auguro e auspico che partendo proprio dalla politica si comprenda che se tanti organi di informazione hanno cessato di vivere e di offrire un servizio alla collettività attraverso una presenza sul territorio è anche colpa di questa politica che forse ha usato lo strumento della non pubblicità per tentare di inginocchiare aziende, che invece producevano conoscenze e informazione. Oggi si rendono conto che la chiusura, il cessare di vivere di un giornale, di una radio e di una televisione è un qualcosa di drammatico per una vita democratica in un paese democratico, in una regione democratica, in una provincia democratica. è drammatico perché una voce di libertà si spegne. Troppe sono state le voci che già hanno perso il decibel, troppe sono state le voci che non si possono più ascoltare. Allora non mandateci più i tanti comunicati stampa in cui si approvano ordini del giorno in consiglio regionale che sposano la necessità di aiutare chi è in difficoltà, come tutti quanti noi che ancora stringiamo la nostra cintura e andiamo avanti. Possiamo andare avanti grazie a dei giornalisti pronti a sacrificarsi e grazie principalmente a quegli imprenditori che hanno avuto come primo obiettivo della loro vita quello di essere editori puri, di mettersi al servizio della collettività, di sacrificare quanto loro credono possa essere importante contribuire alla formazione di un'idea e principalmente delle conoscenze. Allora chiedo umilmente alla politica di dar dei segnali concreti, altrimenti come altre voci dell'informazione, anche coloro che ancora possono emettere dei suoni importanti per la vita democratica rischieranno di cessare da qui ai prossimi mesi. A domani!